Musica Dopo l'inaugurazione del centro vaccinale del quartiere Lido di Catanzaro a Lente Fiera Il giorno successivo si è passati alla vaccinazione degli over 70 Stamattina di Buonalena si sono presentati a decine per la vaccinazione in questo centro vaccinale Al momento ci si vaccina con l'AstraZeneca Voi siete in fila in attesa lei? Sì Qual è il suo stato d'animo in questo momento? Sono tranquillissimo Tranquillo? Sì Da dove viene? Sersalle Lei si è prenotato sulla piattaforma di posta italiana? Sì Sì, sto accompagnando mia zia che è un po' così Quindi speriamo che oggi gli possano fare il vaccino perché non sta molto bene E quindi ha bisogno di essere vaccinata Da dove venite? Da Botricello Lei viene da? Soverato In questo momento qual è il suo stato d'animo? Positivo Tranquillo, sì Dunque animi sereni quelli degli over 70 in questa prima giornata al centro vaccinale dell'ente fiera del capoluogo di Regione Intanto la macchina organizzativa non perde tempo L'obiettivo è aumentare in modo esponenziale il numero delle somministrazioni Garantendo al contempo efficienza e sicurezza L'obiettivo è quello appunto di creare una struttura e delle infrastrutture che possono garantire nel momento in cui, come ci auguriamo, ci sarà la possibilità di implementare le linee vaccinali Di poter avere comunque la base logistica per poter operare Abbiamo garantito un presidio all'interno della struttura proprio per fare in modo che ci possa essere un intervento immediato Qualora dovessero esserci dei problemi inerenti alla connessione a internet Abbiamo comunque previsto anche delle situazioni, come dire, delle procedure di emergenza Nel caso in cui ci dovessero essere delle problematiche che ci auguriamo naturalmente che non ci siano Noi continueremo a essere presenti proprio per fare in modo che le operazioni possono svolgersi nel migliore dei modi E che si possa sempre di più accelerare l'iter vaccinale Noi continueremo a essere presenti